C'è anche il fall che mi sembra che fa molto damage. Ok, c'è senza granate e funziona. Come hai tirato fuori l'arma? Come che l'hai provo? Perché l'holo non lo vedo? Ah, eccolo qua. No, adesso posso vedere però. Trovate. Molto meglio, molto meglio. Quello in fondo ti becco tranquillamente. Aspetta, se riarmo magari. Ho missato solo uno. Ok, si può fare. Meglio se molla... Dobbiamo uccidere tre nemici. Che succede? Ah, sta ancora caricando. Perché non mi fa partire? Ah, scusa, colpami. Occhio. Sta molto meglio. Siamo da fuori, da dentro? Cosa vuoi fare? Puoi andare dentro o fuori? Di white. Detta che non mi faceva. E' un'altra kai. Un sacco. Il staff molti può fare. Un sacco, il staff... Un sacco. Un sacco. Un sacco. Ehi, 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 ehi. No, no, era qua sulla destra. Eccolo là. Destra, destra. Io ho finito i colpi. Eh, pure io. È dato a destra, sulla galleria. Questa a destra, non quella. Eccolo. E' l'Ugo. Bella. Bella. Bella.